TORINO STURA Un po' male andato come posto STURA Vedo che c'erano già degli accampamenti ROM Poi c'era tutta spazzatura in giro Non è come sembra al massimo Però che figua Che ci sono i passaggi Ci sono i buchi Chissà che posto è STURA Tipo È curioso Sembra tipo una roba industriale Tipo un punto di Diciamo di approdo Non so Tutta una roba del genere Che strano Sotto sembra Sembra tipo Una farm Un posto futuristico Dove ci si trova Qua È fichissimo Non ci sono mai stato Mai 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 Beh facciamo un giro Qui c'è il binario Dove credo andare? Binario C Binario 6 Devo ricordarmi Che tra 12 minuti Circa Credo No Tra 14 minuti parte il treno Quindi voglio vedere un attimino Come è fuori Magari mi piace È super figo qua Guardate Lì c'è una specie di torre Di Pisa E qua Abbiamo la lavazza Queste parti Qui Fichissimi Poi C'è un punto in cui si passa In cui si salta C'è una veduta Quello lì Si sale E c'è una veduta Avesse più tempo Magari c'andrei Ma Ancora fino a metà marzo Sono qui Magari un salto ce lo faccio Mi ispiro un sacco Vabbè Adesso Tra poco devo andare Ancora 10 minuti 10 minuti per Giusto due passi È fantastico Stura mi piace Almeno Questa è la prima impressione Che sto avendo Poi non mi ci sono adentrato Però magari Se qualcuno Non sa cosa fare un pomeriggio Sa che Può esplorare Stura con me Poi non mi ci sono adentrato